Balconi pericolanti, privi di ringhiere e senza alcun tipo di sicurezza. Le forti raffiche di vento che hanno colpito il litorale negli ultimi giorni hanno peggiorato ulteriormente le condizioni delle palazzine popolari a gestione comunale situate nel quadrante compreso tra Viene a Picchio e via Marino Fasanna ad Ostia Ponente. I residenti tornano a chiedere interventi di riqualificazione degli immobili. Sono proprio messi male qua, è casino, cascano i pezzi del balcone, cascano tutto, di tutto. Ma è pericoloso stare sul balcone ma anche camminare qui fuori, sotto? Eh certo, proprio esci sul balcone e cascano i pezzi di calcinaccio, ma dappertutto, non è che solo... non so. Servirebbero degli interventi per la messa in sicurezza? La voglia di... ma qui da Mucchi dovevano fare questi lavori, solo che qua è tutto abbandonato. Certo, poi in queste giornate in cui c'è vento la paura aumenta? La voglia, io sul balcone mio marito lo lega con una corda, paura che cascano i ringhiere. È molto pericoloso, però il comune non si interessa per niente di queste cose. Cioè chiede soltanto l'affitto che puntualmente noi paghiamo, ma i lavori sono quelli che sono. Lei sul suo balcone... Il mio balcone è come quello di tutti gli altri, perché non fanno lavori di ristrutturazione e siamo così. Ecco, abbandonati da tutti, dallo Stato, dalle istituzioni. L'anno scorso, vedi quel balcone lì, se ne è caduto tutto, meno male che non c'era nessuno il piano terra. Però, d'altra parte, non abbiamo dove andare e siamo costretti qui a rimanere. Certo, la speranza è che comunque prima o poi vi partano degli interventi. Speriamo. A Piazza Gaspari ho visto che hanno messo dei palchi per ristrutturare, però non so niente.